Il mese di febbraio è stato dedicato da parte dell'Università degli Studi di Siena all'orientamento per gli studenti delle scuole superiori. Quale sarà il programma del Dipartimento Universitario Aretino? Il febbraio, come è stato giustamente ricordato, è un mese dedicato ai colloqui di orientamento. Sostanzialmente quasi tutti i docenti del nostro Dipartimento hanno dato la disponibilità per incontrare gli studenti e quindi essere disponibili sostanzialmente a dare tutta una serie di informazioni, che sono informazioni relative non soltanto ai percorsi di studio ma anche a qualsiasi necessità, a qualsiasi problema o comunque esigenza di supporto che gli studenti possono in qualche modo avere. La seconda iniziativa è Università Aperta. L'iniziativa che si terrà il 20 e 21 di febbraio è un'iniziativa in cui l'università si apre sostanzialmente e quindi anche il nostro Dipartimento alla città, agli studenti, ai loro genitori e agli insegnanti. I ragazzi soprattutto delle quinte delle scuole superiori di secondo grado vengono e partecipano sostanzialmente a quella che è la presentazione, non esclusiva della nostra offerta formativa, quindi non soltanto i corsi di laurea triennale e magistrali che l'università e il Dipartimento offre, ma anche la possibilità di presentare laboratori, la biblioteca, le possibilità di studio all'estero utilizzando le borse Socrates e Erasmus. La possibilità anche che i ragazzi avranno, gli studenti delle scuole superiori avranno, di poter non soltanto assistere ad una presentazione ma anche intervenire, fare domande e avere delle risposte per quello che riguarda il proprio percorso formativo una volta iscritti, ma anche quelli che potranno essere gli sbocchi professionali, quindi gli sbocchi nel lavoro futuro.